Il porto è stato individuato, quello di Catania, ma da nave di Ciotti, finché l'Europa non darà risposte, non scenderà nemmeno uno dei 177 migranti a bordo. Lo stallo sembrava ormai in via di superamento, ma Salvini è tornato alla carica con Bruxelles. O l'Europa comincia a fare sul serio, difendendo i suoi confini ed accogliendo gli immigrati giunti in Italia, oppure cominceremo a riportare nei porti di partenza tutti i nuovi arrivati. Abbiamo detto agli amici europei che se c'è un aiuto concreto, veloce, immediato, bene. Altrimenti, visto che sono sbarcate in Italia 700.000 persone negli ultimi anni, abbiamo già dato.